Sono anche una matematica e parlerò della mia passione in questo servizio nella politica e chi ha fatto un po' di matematica forse riconoscerà per rifarmi l'intervento tuo prima di queste parole. Allora io sono qui oggi perché credo nella politica come l'esercizio di un servizio ad una comunità che però nasce da una risposta ad una chiamata, che ci porta il coraggio e la libertà di dire sì ci sono e ci metto le mie mani, i miei piedi, la mia testa per camminare e per farlo tutti insieme. Ecco io credo che oggi siamo qua perché Matteo ci ha convocato e abbiamo riconosciuto in questa chiamata parole familiari, la possibilità di ritornare ad una politica che è fatta di incontro, di accoglienza, di prossimità, una politica che sa ascoltare e non solo raccontare, una politica che apre narrazione e non solo elenca. Ecco quando inizia un cammino dobbiamo saperne riconoscere le ragioni e le prospettive, le ragioni di questo cammino credo che saranno nei passi che abbiamo vissuto, ciascuno per la sua parte, il coraggio del cammino sarà nel nuovo che non abbiamo ancora saputo immaginare. Però quando si comincia un cammino bisogna essere esploratori, quindi farsi cercatori di tracce e io quindi oggi vi propongo quattro tracce che io ho intuito, ho incontrato in questo mio cammino e che vorrei un po' mettere nello zaino di tutti noi. La prima traccia è la parola coraggio, è stata tanto usata dopo il 4 marzo la parola coraggio, io devo dire che cerco di non usarlo in modo inflazionato e a volte lo uso con un po' di pudore, perché il coraggio io l'ho incontrato camminando accanto a una generazione di giovani donne e uomini che di questo coraggio fanno ogni giorno nella resilienza della loro vita la cifra dell'andare avanti, un camminare appassionato, intelligente, competente, che non ha nessun risultato spesso in cambio, e che nonostante tutto questo c'è e va avanti. Ecco io credo che la prima sfida che siamo chiamati ad affrontare è liberare fino in fondo il protagonismo di questo coraggio, di una generazione che troppe volte è stata annichilitere legata a giochi di ruolo da un mondo adulto che non ha lasciato spazi. Per fare questo dobbiamo assumerci la responsabilità di una politica che sappia generare percorsi senza necessariamente doverli occupare tutti interi. Ecco, la politica che occupa spazi ha finito il suo tempo. Credo che oggi debba arrivare la politica che sappia liberare protagonismo perché altri lo abitino. Dobbiamo tornare alla profezia che Don Milani riconosceva nella possibilità di vedere negli orizzonti, negli occhi di chi ci cammina accanto, un futuro che a noi non sarà dato di abitare, ma che a noi oggi è chiesto di poter rendere possibile. La seconda traccia è la parola generatività. Credo che la politica debba farsi generativa e non più essere semplicemente intermedia tra il vissuto umano e il livello istituzionale. Una politica che diventi grembo di umanità. Dobbiamo essere operatori di relazioni, di connessioni, di animazioni nei luoghi della nostra umanità. Non dobbiamo limitarci a parlare di livelli della politica, dobbiamo abitare i luoghi della politica, dobbiamo tornare alla centralità del vissuto delle donne e degli uomini che vivono in nostro Paese e saperne raccogliere i racconti per poter fare di questi racconti la storia possibile per tutti quanti. Essere generativi significa tornare a desiderare. Dobbiamo tornare ad avere un sogno grande e appassionante come Paese, camminare per renderlo possibile, ma bisogna anche essere capaci di custodire e attendere e dobbiamo tornare per questo, credo, a imparare il passo del più lento per poter camminare tutti insieme. Ecco, io credo che la terza parola a questo punto a cui siamo chiamati è la parola contribuire. Non mi piace una politica che veda i cittadini del nostro Paese come il corpo elettorale. Se noi continuiamo a pensare agli cittadini semplicemente come elettori, è come se li pensassimo solo consumatori di programmi e di promesse elettorali. Dobbiamo chiamare le persone ad essere nella nostra capacità, nella nostra comunità, scusate, capaci di contribuire dicendo io ci sono al meglio di quello che posso essere per permettere a tutti quanti di dire noi ci siamo e quindi attivare percorsi di alleanza, scambio tra le generazioni e nelle generazioni. Questa non è la politica della partecipazione demagogica che altri propongono, questa è la forma più compiuta della democrazia che ci consegna la Costituzione. Una democrazia che vive dell'esercizio della delega ma nello stesso tempo che rafforza compiutamente l'esperienza della comunità. E l'ultima traccia che vi offro è la parola connettere, qui faccio la matematica. Penso che la politica debba tornare ad essere ponte tra le generazioni, ponte tra i luoghi, perché una cosa ci ha detto il voto del 4 marzo, gli interventi iniziali lo hanno detto, è stato un grido di solitudine, di paura, di rabbia. Ecco, alla paura dell'ignoto e della navigazione del mar aperto, alla paura della società aperta, noi possiamo dare due risposte. Una è quella di costruire barriere protettive, come è stato detto, e un'altra, e credo sia la nostra vocazione, è quella invece di offrire delle connessioni perché la navigazione sia orientata e non vissuta in solitudine. La sfida di rendere connessa una società aperta, credo sia la sfida che oggi abbiamo in cuore. Ecco, la buona notizia che io vorrei portare, che secondo me, nella generazione nuova che si affaccia al mondo adulto, l'energia, perché tutto questo accada c'è, ma c'è nell'umanità che qui è rappresentata e che vuole ancora essere in direzione ostinata e contraria il cuore pensante del nostro Paese. Perché questo accada però ci dobbiamo dare il tempo di cui necessita la politica. La politica non ha bisogno di tempo, ha bisogno del tempo, del tempo lento della strada e dell'intensità del tempo di ogni passo che traccia questa strada. Lo dobbiamo fare insieme, con il coraggio, e qui cito e chiudo con una santa che per il mio percorso personale è molto cara, che è Santa Caterina da Siena, perché siamo chiamati non alle piccole cose ma alle grandi cose e semplicemente se saremo quello che dobbiamo essere e possiamo essere metteremo fuoco nella nostra casa che è l'Italia e che è l'Europa. Quindi buona strada e buona rambea a tutti noi.